Musica Martedì 23 aprile ben ritrovati con la nostra informazione. Operazione antidroga all'alba di oggi a Giarra. I carabinieri hanno arrestato un intero nucleo familiare e notificato 20 avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di altrettante persone. Se andiamo. Operazione Tigre Reale, messa in campo all'alba di oggi da oltre 50 carabinieri della compagnia di Giarra, supportati dai reparti speciali. Quattro le persone raggiunte da ordinanze di custodia e cautelare in carcere, emessi dal GIP del Tribunale di Catania, accusate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonché per acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Inoltre sono stati notificati a 20 soggetti gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari. Pur essendo stata riscontrata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, non sono state emesse misure cautelari personali nei loro confronti per assenza di esigenze cautelari. Questi ultimi sarebbero stati inseriti nel medesimo contesto associativo criminale. Le indagini riguardano un arco temporale che va da settembre 2019 a giugno 2021, con servizi di osservazione, pedinamenti ed intercettazioni che hanno portato anche all'arresto di alcuni soggetti in flagranza di reato, al controllo degli acquirenti e al sequestro di droga e denaro. Le investigazioni avrebbero consentito così di disarticolare un gruppo criminale dedito alla gestione di una redditizia a piazza di spaccio nel quartiere Ajunco di Giarre. Al vertice dell'associazione criminale vi sarebbero stati i pluri pregiudicati Maurizio Viscuso e Mario Stefano Sciacca, quest'ultimo incaricato anche di essere il cassiere dei proventi illeciti, che avrebbero messo in piedi un vero e proprio supermarket della droga, fonte giorno e notte di approvvigionamento di cocaina e marijuana. Protetto da misure di sicurezza volte a prevenire e a deludere eventuali blitz da parte delle forze dell'ordine, quale l'installazione di telecamere e la fortificazione della piazza con cancelli, grate in ferro e porte blindate, una fiorente attività criminale gestita a conduzione familiare. L'indagine avrebbe consentito di accertare la partecipazione all'organizzazione di spaccio anche dei figli di Viscuso, Salvatore Giuseppe e della moglie Rosa Arcidiacono, la quale si sarebbe occupata di diffondere le direttive del marito agli altri appartenenti al gruppo. L'indagine avrebbe inoltre permesso di accertare il plagiat di cui avrebbe goduto la famiglia Viscuso da parte del clan Laudani di Piedimonte. Nel corso dell'attività di indagine i carabinieri hanno arrestato 10 pusher, sequestrato oltre un chilo di marijuana e 350 grammi di cocaina e anche 1000 euro in contanti, quale provento dell'attività di spaccio. L'operazione di oggi, coordinata dalla procura etnea, come detto ha portato in carcere 4 persone, sono i componenti della famiglia Viscuso, padre e madre e i due figli, mentre altre 16 persone sono state raggiunte dalle notifiche della conclusione delle indagini preliminari nei loro confronti. Un 25enne alla guida di un'auto è stato inseguito e bloccato dalla Polizia di Stato lungo la tangenziale di Catania ed è stato successivamente arrestato poiché è trovato in possesso di oltre 3 kg di cocaina. Sentiamo. I poliziotti della squadra volante nel transitare per via della misericordia Catania hanno notato sopraggiungere un'auto che con andatura particolarmente spedita si dirigeva verso via Galermo. Il conducente dell'auto, nei pressi dello svincolo per la tangenziale, ha imboccato la rampa d'accesso, accelerando vistosamente. Insospettiti quindi gli agenti si sono messi all'inseguimento dell'auto lungo la tangenziale. Il veicolo in fuga, giunto all'altezza dell'uscita per San Gregorio, si è posizionato in modo da poter uscire allo svincolo. A quel punto gli agenti hanno acceso il segnale luminoso e dopo aver affiancato la vettura hanno intimato l'alte al conducente. L'uomo si è quindi fermato sul margine destro della carreggiata. Identificato è risultato essere un incensurato 25enne di Caltagirone. Gli agenti nell'auto hanno rinvenuto una busta di carta sotto ad un sedile, contenente alcuni panetti di cellofan trasparente con all'interno della sostanza di colore bianco. Sospettando che potesse trattarsi di cocaina, i poliziotti hanno chiesto spiegazioni in merito. Il giovane ha quindi ammesso le proprie responsabilità, confermando che si trattava di cocaina. All'interno della busta vi erano 5 panetti per un peso complessivo di 3,239 kg di cocaina. La droga è stata sequestrata mentre il giovane è stato tratto in arresto e rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza su disposizione del pubblico ministero in attesa della convalida da parte del GIP con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad Adrano la polizia di Stato ha rinvenuto e sequestrato in uslaggo delle case popolari di fronte in mercato ortofrutticolo. Armi, munizioni e droga. Vediamo. I poliziotti del commissariato di polizia di Adrano della squadra mobile di Catania e della polizia scientifica a seguito di segnalazioni anonime su presunte esplosioni di colpi d'arma da fuoco avvenute nei giorni precedenti nello slargo adiecente alle case popolari poste di fronte al mercato ortofrutticolo di Adrano al fine di verificare la veridicità di quanto segnalato hanno effettuato un accurato controllo d'ampio raggio di luoghi e zone di interesse. Nel posto indicato, accanto ad alcune autovetture aperte in stato di abbandono, è stato rinvenuto un bossolo esausto calibro 7,65 Browning. Pertanto i poliziotti hanno proceduto ad ulteriori approfondite verifiche. All'interno di un'autovettura, sempre in stato di abbandono, è stato rinvenuto un barattolo di vetro trasparente contenente sostanza polverosa di colore bianco del tipo cocaina, per un peso complessivo pari a 250 grammi circa, una cartuccia calibro 7,65 Browning, un bilangino di precisione e un involucro di carta alluminio contenente marihuana. All'interno di un'altra autovettura, anche essa abbandonata, è stato trovato uno zaino di colore nero contenente sostanza stupefacente del tipo marihuana, per un peso complessivo di 350 grammi circa, un altro involucro di carta alluminio contenente sempre marihuana e un revolver calibro 5,7 a tamburo, privo di marca, matricola e punzonatura, insieme ad una scatola contenente 42 cartucce calibro 6,35, un revolver calibro 320 privo di marca, matricola e punzonatura, insieme a 13 cartucce calibro 7,65 Browning e una pistola semi-automatica calibro 7,65 Browning, con matricola asportata poiché tagliata con colpo in canna munita di caricatore contenente altre 4 cartucce calibro 7,65 Browning. Altri controlli sono stati effettuati ad un ciclomotore con pedalata assistita presente sul posto. All'interno del bauletto i poliziotti hanno recuperato altra marihuana. Sono in corso le indagini per risalire gli autori degli spari e la riconducibilità delle armi e dello stupefacente sequestrati a carico al momento di ignoti. Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Adrano questa mattina in un'abitazione di via Greco Sicula, zona casina Biancavilla. In fiamme sono andati alcuni rifiuti che erano presenti sul balcone del primo piano della casa. Paura per due sorelle di 11 e 14 anni che in quel momento erano sole all'interno dell'abitazione. Prese dal panico si sono messe in salvo in strada assistita dai vicini di casa che hanno poi allartato i genitori. Su posto sono intervenuti i pompieri che hanno fatto accesso nell'abitazione salendo sul balcone e spegnendo immediatamente il fuoco prima che questo potesse interessare i locali interni. Sul posto è stata fatta arrivare anche un'ambulanza 118 con il personale sanitario che ha provveduto a visitare le due ragazzine imbaurite per l'accaduto. Per fortuna per loro solo tanta paura. Sul posto anche gli agenti della polizia locale. Non è stato al momento possibile accertare le cause dell'incendio. Hanno prestato giuramento questo pomeriggio a Paternò i due nuovi assessori della giunta guidati dal sindaco Nino Naso. Si tratta dell'avvocato Giuseppe Torrise, ex sindaco delle città e di Sabatore Messina, commercialista ed ex componente del collegio del revisore dei Conti. Ad essere nominata anche come tezzo assessore l'insegnante Francesca Coluccio che per motivi di salute presterà giuramento nei prossimi giorni. Vediamo. Il sindaco di Paternò Nino Naso ha barato questo pomeriggio all'interno della sala conferenze della biblioteca comunale di via Monastero la nuova giunta comunale. Si tratta di due uomini e una donna Salvo Messina, Giuseppe Torrise e Francesca Coluccio. Salvo Messina commercialista in passato ha fatto parte del collegio del revisore dei Conti durante la seconda sindacatura di Pippo Failla e nella sindacatura di Mauro Mangano. Giuseppe Torrise invece, avvocato, è già stato sindaco di Paternò tra il 1991 e il 1992 ed è stato assessore nella seconda giunta a guida Failla. Francesca Coluccio invece è un'insegnante giornalista e in questi anni è stata promotrice di iniziative a scopo benefico e solidale. In pratica è il primo cittadino paternese dopo le tempeste politiche. Vedi le dimissioni di Patrizia Vigillito e Giuseppe Castelli per contraste all'interno della maggioranza e per tempeste anche giudiziari. Vedi le dimissioni di Salvatore Comi, sindacato nell'operazione Atena, assieme al sindaco Nino Naso per scambio elettorale e politico mafioso, che ha visto quindi la giunta guidata da Naso dimezzarsi. Il primo cittadino quindi è stato costretto ad arrivare alla nuova giunta con l'inserimento in squadra, come ha detto Naso, di tre personalità di alto profilo. Messina e Torrice hanno giurato questo pomeriggio, assente invece Francesca Coluccio in quanto in malattia. Presterà giuramento nei prossimi giorni. Confermati invece nel ruolo di assessori Carmelo Ciccia, Andrea Lofare e Giovanni Battista Caruso. Abbiamo veramente scelto tre eccellenze e la nostra paternosa, l'avvocato Torrice, il dottore Messina, la professoressa Coluccio che hanno dato subito la piena disponibilità. La mia grande soddisfazione è proprio questa apertura che hanno dato. Vuol dire che questa è un'amministrazione credibile, è un'amministrazione che può scegliere liberamente, è un'amministrazione che dove la priorità e la propria bandiera è proprio la legalità, la trasparenza, l'attenzione e la disponibilità e la professionalità. Ecco questo mi riempie il cuore di gioia e sono sicuro e sono convinto che continueremo a dare le risposte che merita la città. Sono stato chiamato dal sindaco Naso per servire la città come ho sempre fatto in passato e come spero di fare anche per il futuro. La mia è un'attività meramente di servizio nei confronti della nostra collettività in quanto io non appartengo a nessun partito politico che siede in Consiglio Comunale né ad altri che non sono presenti nell'ambito del Consiglio Comunale ed ho lo scopo di intervenire in un momento così delicato per sottolineare alcuni aspetti che sono importanti, cioè dire la lotta alla mafia e per la legalità. Noi non dobbiamo assolutamente ritenere che la mafia o che la delinquenza non esistano, che esistono in modo più o meno evidente. Esistono, ci sono e noi e il Comune, l'amministrazione comunale e il Consiglio Comunale devono fare fronte al di là dei partiti e delle scelte dei singoli partiti per un comune sentire di lotta alla mafia, di lotta alla criminalità. Sono un soggetto che al di fuori da qualsivoglia contesto di politica attiva vengo definito un tecnico. Io ringrazio il Sindaco Naso per aver riposto la sua fiducia nella mia persona e spero di poter svolgere il mio operato in maniera professionale, quando più collaborativa per questa amministrazione comunale, in modo tale da dar il miglior contributo possibile alla comunità paternese. Vista l'impossibilità di presenziare il giuramento, Francesca Colucci ha inviato una lettera al Sindaco Naso in cui ha accettato l'incarico da assessore. Missiva, letta poi dal primo cittadino paternese durante la cerimonia di insediamento. Mi ringresce di non poter partecipare personalmente alla cerimonia, in quanto le mie condizioni di salute attualmente non me lo consentono, si legge nella missiva. Ciò nonostante, accetto la nomina con spirito di servizio verso la mia città e desidero ringraziare il Sindaco per la stima che da sempre ha dimostrato nei miei confronti e che è stata ricambiata negli anni. L'avvento di un'aggiunta di salute pubblica nella quale i professionisti mettono a disposizione le proprie competenze liberamente e senza alcun vincolo è il modo migliore per assicurare alla città ciò che merita. Legalità, trasparenza e concretezza, dice ancora la Coluccio. Con determinazione ma anche con umiltà metteremo a disposizione la nostra professionalità con la speranza e l'augurio di trovare la collaborazione dell'assise civica e della società civile nella sua interezza fuori dalle lotte in destina dei partiti e nell'esclusivo interesse dei cittadini. Ai colleghi dell'aggiunta appena costituitesi auguro di lavorare in armonia e con serenità. Mi impegno a formalizzare gli atti di rito non appena le mie condizioni di salute lo consentiranno. Si chiude così la lettera di Francesca Coluccio indirizzata a primo cittadino Nino Naso. E il sindaco di Paternò Nino Naso ha provveduto anche a ridistribuire le deleghe assessoriali. Sentiamo. Con la nomina della nuova giunta il sindaco Nino Naso ha provveduto anche ad assegnare le deleghe. All'assessore Giovanni Battista Caruso vanno i servizi sociali, sanità, cultura, turismo e spettacolo. All'aneo assessore Francesca Coluccio pubblica istruzione, servizi demografici ed elettorali, pari opportunità, rapporti con il mondo dell'associazionismo, randagismo. All'assessore Cammelo Ciccia vanno le deleghe all'urbanistica, piano regolatore generale, protezione civile, polizia municipale e viabilità. A Giuseppe Torrisi il sindaco ha assegnato le deleghe alla legalità, trasparenza, contenzioso, affari generali, personali, ecologie ed ambiente, rapporti con il Consiglio Comunale. Ad Andrea Lofaro vanno le manutenzioni, servizi cimiteriali, verde pubblico, pubblica illuminazione, CED, sport, politiche giovanine. Ed infine all'assessore Sabatore Messina il primo cittadino ha assegnato il bilancio, programmazione, tributi, patrimonio, attività produttive, politiche, agricole ed imprenditoriali. E sulla nomina della nuova giunta comunale sono intervenuti i componenti del circolo PD Paterneso con un comunicato stampa. E' passata una settimana dalla notizia che ha scosso la nostra città. Vi è incosso un'indagine delicatissima sui rapporti inquietanti tra mafia e politica. Un ex assessore è stato arrestato, il sindaco, un altro ex assessore dimessosi dalle indagini. Sono indagati, si legge nella nota stampa, pende sulla testa della nostra comunità la decisione del Tribunale del Riesame che dovrà pronunciarsi sulla richiesta del Pubblico Ministero circa l'arresto del primo cittadino e a questo punto dell'ex assessore Comis. In questo quadro desolante nessuna voce si è levata dall'istituzione, soprattutto dal Consiglio Comunale in cui risiede la cosiddetta opposizione. E il sindaco, anziché dimettersi, cosa fa? Si chiedono quelli del PD. Come se niente fosse accaduto, nomina una nuova giunta, dicono ancora i dem paternesi. In un contesto simile il gesto del sindaco ci sembra avventato. In un momento in cui la città attende e preoccupata delle disposte, si pensa solo ad occupare poltroni e chi accetta dice di farlo per il bene della città stessa, il che nelle condizioni date ci sembra paradossale. Noi seguiremo con attenzione tutti gli sviluppi giudiziari e all'occorrenza non rimarremo in silenzio insieme alla città per avere chiarezza su ogni aspetto della vicenda che attanaglia paternò. Si chiude così la nota stampa del circolo PD paternese. Con quest'ultima notizia si chiude questa edizione. A me non resta altro che salutare e darvi appuntamento alle prossime edizioni. Una buona serata.